Siamo noi la famiglia Ciao a tutti, nel video di oggi continuo la vacanza in montagna per Chiara e Fedez In mattinata Fedez porta Leone e Vittorio a bicicletta a fare una passeggiata Poi tutti insieme fanno un giro nella casa sull'albero Vi lascio al video, buona visione Come piano? Sono andando a 12 all'ora Come va Patati? Tutto bene? Un po' sacrificatino adesso Papà Wow, stiamo andando su una casa sull'albero Davvero mi sembra stabilissimo Ciao Matti Ciao Matti Ciao Matti Come andiamo a me Come andiamo a me Come andiamo a me